Ecco, ciao raga, ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio, giornata pazzesca qui nei pressi di Udine. Allora ragazzi, volevo fare una, cioè ho fatto una riflessione effettivamente, ho pensato un po' a una cosa estremamente eclatante, no? Cioè di fatto che sta emergendo una condizione, sta emergendo una situazione nel mondo, insomma a tutti i livelli, che praticamente è sempre più, diciamo, ingestibile da parte loro, nel senso che prima non si erano abituati, per esempio, no? Si erano abituati, adesso faccio anche un esempio per essere più chiaro, si erano abituati a tutta una serie di menzogne, no? Cioè spiegazioni ci davano, succedeva una cosa e c'era sempre un giornalista, no? Una televisione, qualcosa, un programma, no? Che di fatto poi ci spiegava cosa stava succedendo, cioè insomma si sostituiva al nostro sistema cognitivo. Intanto sta arrivando vera che abbiamo preso una pianta per Valeria, che andavamo a comprare e l'ha preso un albero, benissimo, va bene, va bene. E stavo pensando, ora sono cose in realtà drammatiche, no? Però in virtù di questa drammaticità, no? Il fatto di nascondere quello che accade realmente è sempre più difficile, per esempio, adesso avete visto, no? Ho messo anche su Facebook, ho messo dei post, no? Del tipo, quello spinge il passeggino, muore, no? Non è dice una persona che ha fatto il punturino, poi muore, no? Risulta, la cosa eclatante era mettere in evidenza che spinge, oddio, che spingeva il passeggino, ok? Questa è la cosa eclatante. Un'altra ragazzina, giovane, praticamente avrà avuto, non so, 16, 18 anni, non so, ho messo anche lì la foto su Facebook e poi stava replicata, credo, anche su Telegram e praticamente annusa il deodorante, muore, no? Cosa, in questa maniera. Cosa, ovviamente, chiaramente ora, io dico questo, no? Una persona che se la vuol continuare a raccontare, no? Rischiando di ridicolizzarsi. Vogliamo far vedere le pantine abbiamo preso Vale? No, è una sorpresa. Ma, ah, non ho fatto, non ho, non ho, non ho, non ho, non ho vede Vale, la vede dopo? Si sta riguardando la diretta. No, va bene, ok. E il fatto che uno è un po' muro, magari se la può raccontare, insomma, ok, va bene. Non succedeva, non è mai successo, no? Prima di questi due anni che un ragazzo giovane, no? Avesse dei problemi, che un, che si decimassero intere squadre, no? Per esempio i riciclisti, come abbiamo visto, o tennisti, come abbiamo visto, no? Perché comunque hanno dei malori improvvisi e non trovare un'attribuzione, cioè perlomeno tutto quel vociare, no? Che c'è da parte delle persone che hanno deciso di non farsi il punturino, che vanno reclamando, no? La viva voce. A un certo punto poi dovranno, per forza le cose, trovare un punto di... Cioè, insomma, dovranno un po' anche arrendersi all'evidenza dei fatti, no? Comunque va bene. Adesso c'è questa cosa, la cosa ecclatante è questa, che succede una cosa drammatica e in virtù di questa cosa drammatica non viene, non viene praticamente determinata la verità, perché com'è, cosa ecclatante, no? Che una persona ha perso la vita perché ha fatto una scelta, ha fatto, insomma, un punturino, ma semplicemente gli viene dato un'attribuzione di fantasia alla prima, a volte la pizza, a volte il rapporto sessuale, a volte il vento, a volte l'acqua fredda, a volte la bolletta della luce, insomma, a volte Putin, no? Non so, qualsiasi cosa tranne che il punturino, ok? Però in realtà loro hanno sempre mistificato, in passato anche, no? Hanno sempre, non loro, quindi, che ci sono quelli che ci sono adesso, però, diciamo, la matrice di quelli che adesso detengano le redini di questa condizione, hanno sempre condizionato il nostro modo di pensare, hanno sempre condizionato l'esito di quello che stava accadendo, no? Di conseguenza, quando siamo stati di fronte a delle situazioni, no? A degli avvenimenti, la lettura gemella in poi, no? C'è sempre stato qualcuno che ci ha spiegato, no? E adesso, visto che comunque siamo in un momento in cui è sempre più difficile portare avanti un determinato tipo di situazione, è sempre più improbabile che loro riescano a fare questo, perché adesso stanno rasentando il ridicolo, no? Stanno, non adesso, stanno rasentando il ridicolo, da un po' di tempo che stanno oltraggiando il ridicolo, in questo senso. Però la cosa più eclatante, a volte questo imbarazzo, chiaramente a cui sono sottoposti, ma anche l'offesa dell'intelligenza e delle persone che continuamente perpetrano, la cosa veramente eclatante è che si vede chiaramente cosa è stato il nostro mondo da un po' di tempo a questa parte. Adesso ne avviamo veramente la cosa eclatante. Quindi, questo per dire una cosa veramente molto importante, il mondo che sta succedendo, io intanto sto squagliando, il mondo che sta succedendo è un mondo che non è fatto per loro, altrimenti non cercherebbero di cambiarlo. Il mondo che sta succedendo è un mondo per noi. Si vede in maniera sempre più eclatante quello che sta accadendo attorno a noi, davanti a noi, insieme a noi. La cosa determinante è mettere al centro della nostra vita, nella nostra considerazione, la nostra centratura, la nostra consapevolezza, fare in modo che il riferimento esatto delle cose, della percezione del mondo e della percezione delle cose, sia la nostra consapevolezza, la nostra coscienza e vedrete che troveremo sempre delle soluzioni. Ricordatevi che tutto quello che stanno cercando di fare, anche se possono pensare di mettersi a cambiare la Costituzione, cercare di fare in modo che l'OMS aveva sempre più potere, se noi, è un qualcosa che comunque avviene sempre dentro le nostre menti, avviene sempre dentro le nostre testi. Loro se minano qualcosa, se minacciano qualcuno e rendano obbligatorio, cioè quindi c'è una sorta di ricatto, non lo fanno al soggetto nominale, lo fanno alla persona che ricopre quel ruolo, lo fanno all'infermiere, lo fanno al medico, lo fanno, non lo so io, a tutte quelle figure che di fatto, se non fanno all'insegnante, che se non fanno quel determinato tipo di scelta, verranno penalizzate, non lo fanno al soggetto. Quindi vuol dire semplicemente che noi dobbiamo imparare, in questo momento, a non mettersi in una condizione in cui noi ricopriamo un ruolo in cui è egemonico, in cui questo potere è egemonico nel riguardo di quel ruolo, ma iniziare ad ascoltare le nostre coscienze e comprendere che noi siamo qui non per lavorare, per arrivare a prendere la pensione, ma siamo qui per fare un'esperienza, un'esperienza mistica, ai fini della nostra eternità. Ora ragazzi, chiudo, apri i finestrini, perché c'è la casino, perché sto veramente squagliando, cioè sono una pozzanghera. Ragazzi, buon proseguimento, ci sentiamo prestissimo, probabilmente facciamo collegamento domani, domani dal corso di Transurfing alle 11. Ciao raga!